Ciao a tutti! Oggi prepareremo i panini tipo bottoncini. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più 4 ore di levitazione. Gli ingredienti sono acqua, lievito di birra fresco, zucchero, farina di tipo zero, olio evo e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina. l'olio e il sale e facciamo impastare per 5 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento con luce accesa per almeno due ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso formeremo i bottoncini. Faremo delle palline di circa 40 grammi ciascuno. Dopo aver diviso l'impasto su un piano di lavoro infarinato formiamo i bottoncini. Formiamo una pallina e posizioniamoli su una teglia rivestita con carta da forno. Dopo aver formato tutti i bottoncini trasferiamoli in forno spento con luce accesa e lasciamoli lievitare per altre due ore. Trascorso il tempo, cuocere in forno preriscaldato 200 gradi per 20-25 minuti circa mettendo sul fondo del forno un pentolino con dell'acqua. I bottoncini sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di servire. Panini tipo bottoncini. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!